Natale in bus, Lecce organizza il sistema gratuito di navette dal foro Boario al centro. È un qualcosa che viene riproposto, come già accaduto un anno fa e anche nelle estati, storicamente affollate da turisti. Una misura annunciata dall'amministrazione comunale per decongestionare il traffico che negli ultimi giorni ha mandato in tilt la città. Acquisti per i regali, lunghe quote davanti ai negozi e persino il senso unico alternato per evitare gli assembramenti, oltre che svariati controlli con la polizia municipale nei weekend fin dentro le attività commerciali. Eppure, al di là dell'emergenza sanitaria e del covid, tutto questo presenta anche un problema di viabilità per i residenti e per chi viene da fuori. Parcheggi introvabili e lunghe code in auto. E allora il comune prova a decongestionare le arterie principali, dal foro Boario al centro, gratis con la navetta, dalle 15.30 alle 21.30 tutti i giorni, con una frequenza di un mezzo ogni 15 minuti. E' pur sempre Natale e chi ha visitato Lecce in questi giorni se ne è accorto.